Ciao a tutti, sono Marco Fieriolo e mi ritengo un ragazzo veramente fortunato perché faccio il lavoro più bello del mondo e soprattutto questa passione la condivido con mio papà e con mio fratello. Lo che uso nella mia quotidianità ovviamente sono i Pardux, azienda leader nel mercato dei fondi, io mi ricordo ancora quando ero bambino e nel cassetto del bagno di mio papà c'era il Pardux di vent'anni fa, quindi tutti i giorni ho la possibilità e la fortuna di poter vivere questo prodotto e vivere la mia quotidianità insieme a questo fond. Cosa mi piace del Pardux soprattutto l'ultima generazione del Pardux Allion? Ovviamente la leggerezza, l'estrema leggerezza ma ovviamente l'estrema velocità di esecuzione, come lascio il capello perché all'interno una tecnologia ha gli ioni negativi che oltre a dar velocità di esecuzione mi lascio il capello sano. Oggi la cosa fondamentale dei nostri clienti, ciò che ti va di tendenza principalmente è avere il capello sano, la bellezza del capello e grazie al Pardux Allion questo posso ottenere. Quale sarà il nostro futuro? Il nostro futuro ovviamente sarà un futuro meraviglioso, sarà un futuro fatto di personalizzazione e fatto di sartorialità, trasmettere al nostro cliente una consulenza ammirata ma soprattutto estremamente sincera. Quindi il nostro futuro sarà accompagnato da dei fond meravigliosi come finora Pardux ci ha dato. Grazie per la visione!